Estorsioni e danni di esercizi commerciali e cantieri edili, manca episodi di spaccio, danneggiamenti vari e furti al centro dell'operazione richiesta, così battezzata dagli investigatori della squadra mobile perché le richieste di pizzo erano passate a tappeto in tutto Camaro dai componenti dell'associazione che stamattina sono finiti dietro le sbarre. Un gruppo che veniva gestito come un'impresa familiare al cui vertice c'erano il pluri pregiudicato Santi Ferrante, 59 anni, Francesco Larosa, 60 anni e dopo il suo arresto ha visto assumere un ruolo apicale il cognato Nino Genovese che insieme al fratello Raffaele intrattenevano i rapporti con i consociati e con altri malavitosi, recapitando messaggi, custodendo parte dei proventi illeciti e distribuendo gli stessi tra gli altri componenti dell'associazione. Accolta integralmente dal GIP Antonino Genovese le richieste dei sostituti procuratori Camillo Falvo e Antonio Carchietti che hanno portato in carcere Santi Ferrante, Antonino, Raffaele e Maria Genovese, Francesco Larosa, Francesco Di Biase, Vittorio Di Pietro, Sebastiano Freni, Gianfranco Larosa, Enrico Olivieri, Giovanni Lanza e Salvatore Triolo, disposto l'obbligo di dimora per Salvatore Morabito, 43 anni. A spiccare tra gli arrestati è sicuramente la figura di Santi Ferrante, personaggio di primo piano della criminalità di Camaro, condannato per omicidio, estorsione, rapina, usura, associazione delinquere di tipo mafioso finalizzata al traffico e stupefacenti, come emerso dalle indagini grazie alle intercettazioni dei colloqui in carcere con i familiari, nonostante il regime carcerario ha continuato a gestire le attività illecite del gruppo. Proprio grazie alle intercettazioni gli investigatori della squadra mobile hanno così documentato che gli era anche stato fatto sapere che l'ex giocatore del Messina, Carmine Coppola, stava per aprire un impianto sportivo nei pressiella annunziata e che quindi poteva essere una nuova vittima del giro di imprenditori e commercianti già costretti a pagare il pizzo. Per la prima volta in un'indagine sono poi state utilizzate le dichiarazioni dell'ex boss Massimo Barbera che hanno chiarito la struttura dell'associazione, il ruolo dei vari componenti e alcuni dei danneggiamenti registrati in oltre un anno di indagini. Grazie.